è uscita la versione 3.1 di navigator e in questo breve video vado a farvi vedere le novità si tratta di poche cose però sono delle modifiche che sono a mio avviso essenziali e che ho deciso di fare per velocizzare il lavoro di modifica delle note dunque allora vado a far vedere che cosa faccio io quando lavoro sulle note nella maggior parte dei casi anziché cominciare da zero parto da note esistenti e vado a correggerle quindi cosa faccio intanto utilizzo l'overlay che mi fa vedere la distanza che è essenziale per poter capire su quale nota su quale nota sono poi imposto una camera che sarà una camera insomma con vista dall'alto nella maggior parte dei casi tranne nelle situazioni in cui ci sono dossi o avvallamenti dove è necessario vedere anche gli slipelli insomma per poter vedere i salti e così via e comunque in uno stage come questo dove non ci sono molti dossi posso lavorare bene anche con una camera dall'alto quindi apro il plugin e vado a rallentare la velocità del replay e cambio la camera e imposto una camera dall'alto per esempio una eagle oppure una ok ok così occhio di falco e aumento un po il fove per poter vedere meglio la macchina ok e questa sostanzialmente la camera con cui con cui lavoro cosa faccio faccio partire il replay e insomma ogni volta che la macchina entra in una curva mi fermo e insomma controllo che la nota è posizionata alla distanza corretta e allo stesso modo anche quando esco dalla curva controllerò che la fine della curva corrisponda con quella riportata perché questo perché l'inizio e la fine della curva sono due punti essenziali per poter permettere al programma di calcolare le distanze nella maniera corretta perché se io importo le note così come sono in rbr bene queste note non tengono conto della lunghezza della curva e le distanze tra le curve sono praticamente sempre sbagliate per poterle insomma implementare nella maniera corretta devo inserire in navigator il punto iniziale il punto finale di ciascuna curva quindi nel caso di questo tornante per esempio mi fermerò sulla distanza 51 e quindi diciamo la prima curva appunto controllerò che sia posizionata con l'inizio a 51 metri in questo caso invece l'inizio della curva è posizionato a 44 metri quindi già devo fare una correzione sposterò l'inizio a 51 metri niente di più facile ora lascerò che la macchina prosegua fino alla fine della della curva e non appena vedo che il valore di sterzata diciamo si normalizza quindi raddirizzo lo sterzo ecco in questo caso sono diciamo uscito dalla curva e posso posizionare il punto finale della curva in questo preciso punto ovvero alla distanza di 100 metri quindi in questo caso io 97 90 a 97 100 non c'è grossa differenza potrei anche lasciarlo così però mettiamo caso che io volessi posizionarlo esattamente a 100 metri non posso spostarlo più avanti perché non posso farlo perché c'è la nota numero 2 che è una distanza che inizia a 97 metri dunque per poter spostare il punto finale della curva dovrò cancellare questa distanza e a questo punto potrò spostare il punto finale a 100 metri come appunto volevo volevo fare schiaccio il tasto applica ed ecco che vengono rigenerate le distanze e la curva adesso ha la lunghezza corretta ciò che è cambiato rispetto alle versioni precedenti di navigator e che non abbiamo più la lunghezza ma abbiamo il punto finale e la lunghezza che fine ha fatto allora eccola qui la lunghezza è questa che appare appunto alla destra della del punto finale e che si modifica quando io sposto il punto finale o anche il il punto iniziale ecco questa semplice modifica in realtà velocizza molto l'editing delle note perché quello che io faccio quando lavorano con le note proprio posizionare il punto iniziale il punto finale quindi mentre prima diciamo il punto finale era in funzione della lunghezza adesso è praticamente il contrario non solo ma abbiamo aggiunto anche un'opzione che vi consente di aggiustare le distanze per esempio supponiamo insomma che questa distanza fosse minore ok quindi la posizione opposizione il punto iniziale di questa distanza a 137 quindi diciamo che io ecco ho preso questa distanza di 40 metri però ho lasciato in pratica un buco perché tra la curva numero 2 e la distanza numero 3 c'è appunto questo buco che andrebbe in qualche modo riempito e come possiamo aggiustarlo in maniera del tutto automatica è stata aggiunta questa opzione nel menu tools che si chiama correggi distanze con questa opzione vedete che la distanza viene portata al suo valore corretto quindi quel buco viene riempito e in questo modo diciamo potete fare questa operazione soltanto a fine lavoro e non avete bisogno di preoccuparvi di correggere man mano tutti i buchi perché prima diciamo c'era il rischio che lavorando appunto potevate lasciare questi questi buchi e poi dimenticarvi di correggere la correzione della distanza invece potete tranquillamente seguirla una sola volta a fine lavoro e non dovete preoccuparvi di riempire i buchi man mano che lavorate queste due piccole cose velocizzeranno molto credetemi il lavoro nel mio caso la mia velocità di lavoro viene quasi raddoppiata grazie a questi due piccoli accorgimenti inoltre abbiamo un utilissimo autosalvataggio che impedisce di perdere le modifiche nel caso in cui succeda qualsiasi cosa un blackout un crash del programma ho voluto implementarla perché mi è capitato di perdere mezz'ora di lavoro che ho dovuto rifare ed è stato veramente noioso quindi ho pensato che fosse stata utile una funzione di autosalvataggio che salvi in maniera completamente diciamo trasparente a voi ad ogni modifica che fate quindi diciamo non è un'opzione che salva ogni tre minuti ogni cinque minuti no proprio ad ogni modifica avviene un salvataggio automatico quindi se succede qualcosa quello che dovete fare è la cosa seguente andare nel menu file scegliere apri e andare nella cartella navigator e recuperare questo file che si chiama lastedit.crdvlog questo file non è altro che il salvataggio automatico aggiornato all'ultima operazione che avete fatto bene era un piccolo aggiornamento mi auguro che queste due modifiche vi siano utili buon divertimento e vi ricordo di supportare il nostro lavoro con le donazioni se volete ciao ciao da carlo